Cari amici di LumaFujitalia, benvenuti finalmente in questo nuovo video, un po' diverso dal solito, non abbiamo più quel casino del chroma key, ma siamo qui perché voglio portarvi al montaggio, alla realizzazione di un montaggio vero e proprio da zero. Lo so, l'abbiamo fatto tante volte, però è meglio ripassare ogni tanto per quelli che magari si avvicinano per la prima volta a questa bellissima applicazione. Cosa andremo a vedere in questa prima parte? Allora faremo due parti. Nella prima parte andiamo a vedere un po' di cose che riguardano sia l'organizzazione sia per un primo montaggio. Poi nella seconda parte ovviamente finiremo il nostro montaggio con i tagli, con le musiche, tutto quello che vogliamo, ma andremo a fare la colorazione, color correction, perché in questa fase non la faremo, lasceremo le clip così come sono, scure e chiare non ci interessa. L'importante adesso è fare un montaggio. Ah, nella seconda parte mi sembra che sia, adesso non mi ricordo più, andremo a fare anche i movimenti di camera. Quindi muoveremo la nostra camera praticamente, forse lo facciamo nella prima, non mi ricordo. Ehm, muoveremo, muoveremo, ragazzi non so dire muoveremo la nostra camera praticamente artificialmente. Andiamo a vedere le slide, intanto io ho preparato le slide, questa volta ho fatto un po' il professore, ma non lo sono, ovviamente. Andiamo a switchare ed ecco qua le nostre slide, come ho detto un primo montaggio. Innanzitutto andremo a organizzare le nostre clip, ricordatevi di organizzare sempre le clip, quando si fa un'acquisizione, quando si acquisisce da qualsiasi formato, telefono o una videocamera o qualsiasi cosa, organizzate dopo le clip, perché poi, credetemi, non ci capirete più niente lungo andare, perché ovviamente quando ne avete centinaia, centinaia, ma anche dieci, basta, non ci capite più. Quindi andiamo a organizzare le clip e vedremo come fare. Poi prosegueremo a fare un primo taglio delle nostre clip con l'importazione all'interno della timeline, ma però poi, ovviamente, qui nella prima parte inizieremo a montare il nostro video, tagliando ulteriormente le clip, perché ovviamente non servirà a tutta la lunghezza, ok, delle clip, non è necessaria tutta la lunghezza. Quindi, dopo questa piccola prefazione, un pochino lunghetta così, andiamo a vedere veramente il lavoro che dovremmo fare. Allora, io ho ripreso queste clip con iPhone 8 Plus, mi sono un pochino, come dire, lanciato in questa impresa, ovviamente ho preso a 4K i video, le clip girate a 4K, perché? Perché voglio fare ogni tanto un crop, però facendo un crop devo stare attento, perché non posso fare un crop spinto, cioè un crop vuol dire non posso zoomare tanto la mia immagine, perché poi dovrei, ovviamente, postarla sui social, oppure su YouTube, o dove voglio vederla, dovrei ridurla a 1080, invece se voglio stare a 4K posso ingrandire un po' le mie clip, ma, ovviamente, non esagerando, mi sembra che possa andare un pochino, più o meno al 100% di ingrandimento, 100%, quindi non posso, ovviamente, andare al 200, roba del genere, cosa potrei fare, ovviamente, lo potrei fare se andassi a 1080, poi, come, diciamo, come risultato finale. Ora, andiamo a vedere, dopo questa piccola intrattenimento, andiamo a vedere, ovviamente, io cosa ho fatto, io, adesso vi faccio vedere, io ho ripreso con iPhone 8 Plus, vi stavo dicendo, perché mi son perso, poi ho, ovviamente, fatto anche in LUT file, mi sono, in LUT, scusate, in LUT Log V2, con Filmic Pro, e, ultimamente, mi sono complicato anche la vita, mettendo il Monlog, l'obiettivo cinematografico, quindi mi sono, proprio, complicato la vita, ma ho dovuto fare un altro esperimentino. Poi, ho buttato tutto su questo harddischino della SanDisk, tenendo conto di una cosa, trasferendo i file con, scusate, la tolgo, con Camera Connection, vedete, inserì, inserì, io non ho, ovviamente, l'iPad, di una generazione, quindi, mi aiuto ancora con Camera Connection, dicevo, trasferendo qualche file, qualche file, tutti i file, qualche di, qualcuno di questi file, non viene visto, e questa cosa mi ha dato un po' fastidio. Allora, cosa ho fatto? Ho provato, ovviamente, se il problema era, ovviamente, dell'applicazione Filmic Pro, e non lo è, il problema è del trasferimento, quindi, sono andato sul Mac, ho trasferito i file da iTunes sul disc, e tutto è andato a posto, quindi, fatemi sapere se vi è capitato, anche a voi, questo inconveniente. Ora, andiamo a vedere il file manager, vedete, io ho preso il, scusate, faccio una cosa molto veloce, ecco lì, io sono in file manager, vedete, sono in file manager, vado in video edit, dove, l'hard disk, ovviamente l'ho chiamato così, cerco la mia cartella, che è Genova, vado alla ricerca dell'altra cartella, non è Genova, questa cosa fai, cretino, dunque, Genova, ecco qua, spedtumatemi, qua, parte 2, vedete, adesso io, tutti questi, perché non ho nominato, ovviamente, cioè, ho lasciato il nome vecchio nel CSM di FMicro, quindi questo è un errore molto grave, e adesso mi tocca rinominarli tutti, per rinomerare tutti i miei file, cosa faccio, li vado a guardare una 1, ovviamente, se mi servono, potrebbe essere che non mi servono, oppure li posso cancellare, perché sono venuti male, quindi li vado a vedere, e se sono venuti bene e mi servono, ovviamente li vado a rinominare, li vado a vedere, uno per uno, questo è un lavoro molto lungo, ecco, messaggio, vado a vedere il mio file, vedete, vado a vedere, metto il telefono in, in, scusate, in, ecco, vado a vedere il mio file, un po' storto, però posso radirizzarlo, ovviamente, in post produzione, questo mi va bene, quindi cosa faccio, lo vado a rinominare lungo, ok, un tap lungo, o un mouse lungo, quello che volete, vado in rinomina, e vado a rinominarlo come più mi, mi sia utile a me, ok, io posso anche nominarlo col nome della chiesa, ma io metterò semplicemente chiesa Matteotti Matteotti perché così riconoscerò che questa chiesa, non è perché devo riconoscere, ma però saprò, vedendo la miniatura piccolina, magari non riesco a guardare bene cos'è, mio però saprò che questa è la chiesa di Matteotti e così vado avanti fino all'ultimo file, questa è mia figlia col gelato, quindi rinominerò anche questa clip qua, vado qua e ci scrivo ovviamente Fabio e Giorgia e vado avanti fino a che non ho finito tutto questo lavoro. Allora, quando abbiamo finito di rinominare tutti i nostri file guardati e riguardati per vedere se alla fin fine questo materiale che abbiamo prodotto non contiene qualche video che non va bene, che non vogliamo inserire, a questo punto abbiamo finito la prima parte di un inizio di un lavoro abbastanza buono perché abbiamo rinominato tutto il nostro clip, ci è avuto un sacco di tempo. Ora andiamo sull'UmoFusion, ovviamente io ho girato anche a 30 frame per secondo, quindi sono contento, ho dato questa botta di memoria perché sappiamo che è difficile, cioè non è difficile ma è abbastanza, come dire, dura certe volte che la nostra memoria non esploda. quindi io ho fatto adesso un nuovo progetto a 30 frame per secondo e inizio praticamente a lavorare, a importare i file. Dunque vado nella mia sezione file, mi vedete, sì, mi sposto un po', scusate, brutalmente, la videocamera, vado all'interno di file all'interno di file e vado nel mio hard disk che è video edit sempre nella cartella Genova, ovviamente che la perdo sempre, ovviamente vado all'interno del mio pezzo 2 e vediamo che sono tutti stati rinominati, ok? I miei file sono rinominati bene perché ho, diciamo, questo lavoro è importante, ok? È molto importante, è una scocciatura ma è molto importante. Allora, a questo punto io ho un, lo so, ho un quesito da pormi, no? Iniziare dal primo filmato che io ho prodotto o andare così a random. Io inizio dal primo filmato che ho prodotto che è questo qua, ok? Questo qua e, vedete che ho fatto già un primo taglio, ok? Era sbagliato il primo taglio, il primo taglio è questo, non voglio far vedere la chiesa, ok? Faccio così, ok? È molto, una cosa molto piccola e veloce, vediamo un po'. Vedete che si muove di qua, è molto, molto veloce. Poi dipende cosa volete fare, se volete fare un video che sia dinamico, eh? Che praticamente sia dinamico come, 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 giusto come, come visione, no? Come che il vostro, diciamo, spettatore veda una cosa dinamica oppure no. A questo punto ho fatto un errore. Ovviamente devo andare in impostazioni e andare a settare qui il giusto formato che è questo, ok? Amorphing, perfetto. Amorphing, vedete che il formato ovviamente si è aggiustato, ok? Quindi io adesso facciamo il lavoro, però ovviamente passiamo al full screen di LumaFusion. Allora, continuiamo il nostro montaggio. A questo punto abbiamo preso il palazzo, giusto? Ok, continuiamo. Abbiamo di qua l'altra immagine che avevo preso del palazzo, vedete, di qua, così da quella strata angolazione. Facciamo un taglio anche qui e andiamo fino a qua. Ok, importiamo l'altra clip adesso, sotto, importiamo. Ok, ho preso un'altra clip con un altro taglio, ovviamente poi vantagliate perché poi metteremo la musica, quindi non sarà questa la giusta lunghezza delle clip. Poi, andiamo avanti, avevo, avevo, avevo la chiesa, ecco, se non trovo, ok, faccio così, scrivo chiesa, ecco per miracolo vedete che adesso io ho le mie due chiese, ok? Non ho la chiesa in piazza Matteotti e avrò scritto male ovviamente chiesa, per forza perché non è possibile che non ci sia la chiesa di piazza Matteotti. Non è questa, questo è il gelato, allora dove sarà, dove sarà, strano che l'abbia scritta male. Allora l'ho scritta male, piazza della vittoria, piazza della vittoria, non c'è la chiesa. Vuoi dire che l'ho cancellata? Potrebbe essere che l'abbia cancellata, eccola qua, questa è Colombo, perché forse non mi piaceva più. Questa è via 20, ok dai ragazzi l'ho cancellata perché forse non mi piaceva più, che era anche storta, vi ricordate? L'avevo messa che era anche storta, quindi non va bene così. Allora continuiamo a mettere i nostri clip continuando la nostra pseudo storia, ok? Io adesso di qua vado a prendermi i bimbi col gelato, che potrei prendere benissimo. Questi ce li metto tutti, tutto, scusate la lunghezza, poi la taglierò dopo quando ovviamente farò il montaggio quasi finale. Andiamo a prenderci adesso, iniziamo ad andare, a prenderci dalla strada di Colombo, che deve essere qui, da qualche parte. Eccola qua, questa è la salita, diciamo, dove si vede, vedete, già la casa di Colombo, diciamo, vabbè la torre, lì quella non è la torre di Colombo, però è adiacente. Quindi posso fare così, ci metto questa, bam, ci metto questa, poi vado avanti, ho le due torri adesso, e devo scegliere ovviamente qual è la migliore. Questa è così, perché poi sono uguali, ovviamente non mi metto certo a prendere due cose uguali, e basta, non ho preso nient'altro. Ho preso questa, così, che si muove, perché il trucco è anche star fermi 5 secondi e poi dopo muoversi, ok? Questa è così, che si muove, perché il trucco è anche star fermi 5 secondi e poi dopo muoversi, ok? Questa è così, che si muove, perché il trucco è anche star fermi 5 secondi e poi dopo muoversi, ok? Adesso andiamo a dare un'occhiata a grandi linee all'ultima parte, il taglio finale, finale, nel senso non è ancora finale. Vedete, questo è un cambio di scena, vediamo un po' come cambia, cambia la scena presa di qua, quella è un po' corta, di qua i gelatini, ecco questo, potremmo fermarlo qua, perché è troppo lungo, quindi via. Questo anche, vedete che è troppo lungo, però non accorcerei troppo, perché poi ovviamente quando metteremo la musica dovremo fare un altro taglio, ok? Un altro taglio ulteriore, quindi lascerei per adesso il mondo com'è, se non ci sono, c'è qualche pezzo che ovviamente eccede troppo o è praticamente inutile, diciamolo, come fosse questo, e così andiamo poi a fare un taglio finale, ovviamente per vedere sulla musica, poi ovviamente dobbiamo tagliare i pezzi, se vogliamo ovviamente che le nostre immagini vadano a tempo, ok? Perché se non vogliamo che vadano a tempo, dovremmo solamente non mettere a tempo, vedete qua, questa è come scura e questa è come chiara, quindi bisognerà qua, la correzione colore e soprattutto del chiaro-scuro sarà abbastanza difficile, perché quando metteremo il filtro correzione V-Log2 si scurirà tutto e quindi avremo ovviamente da fare molto con la luminosità, quindi vabbè, non ci spaventa perché poi noi sperimentiamo e vediamo cosa succede nell'arco del lavoro, ovviamente. Io direi che come primo taglio può andar bene, quindi mi sposterei dall'altra parte per i saluti. Allora, finiamo di vedere il nostro montaggio, il primo montaggio, come è venuto, vediamo un attimino ancora i tagli, come sono, se vanno bene, vedete questo già a me non piace perché si aziona troppo tardi, vedete che è rimasto fermo qui, quindi io lo taglierei qua, che è quando incomincia a viaggiare, quindi diamo un altro taglio qui. Poi ovviamente sono cose soggettive, ragazzi, cioè piace a te, non piace a me, piace a quell'altro, non piace a Apple, purtroppo è così. Se non è un lavoro poi per un cliente finale, che ovviamente deve piacere a lui, ovviamente, vediamo un po'. Ok, c'è l'ambulanza, anche qua vedete, guardate com'è lungo, che si è fermato il nostro cameraman, che ero io. Stoppiamo anche qui e andiamo avanti, però vediamo un po' da qua com'è. Forse è ancora troppo lungo, però come ho detto prima, diciamo tagliamolo troppo perché... Questo cos'è? E questo cos'è? No, di qua, di qua. Non tagliamolo troppo perché poi con la musica dovremo andare ovviamente a fare i conti, ok? Quindi vedete che c'era ancora da lavorare, altro che è finita lì. Quindi qua va bene, ok? Poi possiamo velocizzare, faremo altri movimenti di camera, ci inventeremo ovviamente qualcosa per far sì che il nostro filmato sia più dinamico possibile, che non a noi il pubblico che lo vede. Già questo è abbastanza neglioso, no, scherzo. Però vediamo un po' come va a finire. Ecco la chiesa che non mi piaceva, va bene così. Poi abbiamo adesso questi colori molto scuri che dovremmo fare i conti, ovviamente con la correzione colore e vedremo cosa potremmo fare. Dobbiamo alzare un pochino la varia gamma di luminosità e vedere un po'... Qui infatti molto chiaro, perché vedete ho messo, ma niente l'esposizione l'ho cambiata. Vabbè, questo è il pezzo finale, ok. Una cosa sola vi voglio far vedere, solo andiamo un attimo ad applicare il filtro V-Log a questo, perché ero curioso di vederlo, sicuramente verrà scurissimo, vedete come viene scuro? Però c'è anche questo, il flat, ma non è il suo, e questo che è scuro. Quindi, quando è così scuro, cosa bisogna fare? Bisogna andare qui e incominciare a correggere qui la gamma di luminosità, non esagerando perché ovviamente poi perdiamo tutta la poesia del nostro filmato, che se è scuro è stato fatto apposta per essere scuro. Lo vedete che è molto bello, ok? Molto, ma a me piace molto, quindi poi, come ho detto, la cosa è soggettiva, quindi voi, mentre farete le vostre riprese, vi piaceranno, e magari un altro non piacerà. Allora, cosa dire in finale? A chiusura di questo video, vi dico che la prossima volta vedremo ovviamente altre tre sezioni, che saranno il movimento della camera, qualche animazione, qualche pan, qualcosa, qualche velocizzazione su ovviamente queste clip, vedremo ovviamente come mettere a tempo le clip che abbiamo fatto con la musica, con i mark, scegliere una melodia, una musica che vada d'accordo con il nostro filmato, che non è una cosa semplice, e poi avremo la parte della colorazione che non so se ce la faremo a farla tutta in una volta, però comunque ci proveremo, e poi vi farò vedere come esportare per YouTube o oppure esportare su un dispositivo o internamente la memoria. Per adesso vi ringrazio per aver seguito questo video, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.